Perché ci ping-pong-pongolo anche in lei? Ma ci prendete lui con un tweet, ecco perché l'inglese, ecco perché, perché lui l'ha fatto in inglese. Vi fai vedere l'inglese? How many butcher before we move it to a full oil and gas Russia embargo time is over? Quante buccia, prima di andare verso un totale embargo di gas e petrolio alla Russia, il tempo è scaduto? Oh, che bello, ha fatto un tweet ragazzi. Cioè guardate che fare un tweet non è facile. Cioè è facile andare da Draghi, fargli un culo così, minacciarlo e minacciarlo di una crisi di governo se non fa l'embargo. Questo è facile, ma prova a fare un tweet. Da casa. Ma ciccio. Non è facile. Infatti poi, finita che letta, si è preso il suo bel tweet, l'ha piegato, metaforicamente, e l'ha infilato nella sua preziosa collezione di tweet di sinistra, inutile. Dopo Renzi e Lega, anche il PD si è messo a fare politica coi tweet. Aspetta che qua... Parla tranquillo, no? Perché adesso si vanno a fare l'attacco. Ma è difficile. No, vi spiego. Perché queste cose noi le decidiamo un'ora prima, no? E il problema è che tu fai il coglione del tuo tempo. Quando poi devi partire a cantare? Dovrebbe essere tutto un metronomo. Ma per chi ha fatto teatro, e voi l'avete fatto tutti, tendenzialmente queste cose si provano dai sei ai sette anni prima di farlo perfettamente con l'orologio. Io sono abbastanza anziano. Per cui, fai... Faimi sentire. Eh, lo vedi, Silvano? Rifallo. Vai. Ok, allora. Aspetta, perché il cosa... No, aspetta. Calma, signor Miguel, fiaschi che sa boh. Perché il senso è... Dai, PD! Tweet again! Letta è l'eroe del tweet Dal divano di casa Con tweet cos'è il PD Poi sparirà Silvano Berfiore Buain Non solo continueremo a prendere il gas dalla Russia Ma glielo paghiamo anche un botto Bruxelles vuole riempire gli stock al 90% entro ottobre È geniale, guardate, fidatevi Per non essere costretti quest'inverno a comprare il gas da quel mostro di Putin Glielo compriamo adesso Vaffanculo Gli compriamo il gas da Putin Ma vabbè Che costa come il caviale Lo compriamo adesso Che costa come il caviale Energia, prese petrolio, gas dalle stelle Putin, succa? Eh, scusate Ancora due mesi così a Putin non serve nemmeno bombardare l'Ucraina Se la compra, si compra l'Ucraina, i paesi baltici, il Paris Saint Germain, la Apple e anche l'Europiana Così i piumini gli arrivano gratis Allora nel frattempo Quatti quatti, tomi tomi, cacchi cacchi Cina, la grande abbuffata di gas russo è a basso costo Se lo stanno comprando loro In offerta speciale Minchia, torniamo sempre lì America e Russia che litigano L'Europa che piange La Cina che gode Nel senso pensate che sia arrivata l'ora di un esperto di geopolitica Come nelle trasmissioni serie, sappiate che ce l'abbiamo anche qui